Restano stabili i numeri dei contagi nel Comune di Torre del Greco. Secondo il bollettino di ieri sera infatti si è registrata una sola persona guarita. Inoltre si è certificato un nuovo positivo. Non muta dunque il bilancio dei contagiati con 96 attualmente positivi di cui 9 ospedalizzati. Nel Comune di Torre annunziata invece sono 6 i nuovi casi di contagio a fronte di 125 tamponi processati con l'indice di positività che si attesta al 4,80%. Al contempo si registrano anche 6 guarigioni. Restano 62 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 47.854. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 21.499, 52%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.355, il 64%.